Dopo quattro giorni il sindaco di Modica Ignazio Abate non parla ancora. La questione è quella relativa alla delibera attraverso cui l'amministrazione ha prorogato gli incarichi con affidamento diretto a sette tecnici tra geometri, architetti e ingegneri per l'espletamento delle pratiche di condono edilizio. Intanto il servizio realizzato dalla nostra emittente sta spopolando sui social scatenando una serie di reazioni e commenti. Oggetto di dibattito, oltre alla scelta politica di continuare a procedere con affidamenti diretti escludendo di fatti tanti tecnici che potrebbero ambire a ricoprire quel determinato ruolo anche i nomi scelti dall'amministrazione. Tra questi, ad esempio, Federico Scucces, figlio del consigliere di opposizione Giovanni. Tra i commenti anche quello di un cittadino di Modica. Dice che la denuncia contro il sistema avanzato nel servizio è stata presentata circa due anni fa al comando provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa con la Procura che ne ha chiesto ed ottenuto l'archiviazione. Approfondiremo nei prossimi giorni. In quell'esposto, l'aspetto degli incarichi riguardava solo una parte della denuncia. Le accuse spaziavano dalla gestione della fiera della Contea alle presunte incompatibilità di alcuni assessori comunali. Riguardo quest'ultima tematica, nel marzo del 2016, la questione venne portata in assise dal consigliere Massimo Puccia, ma la richiesta di discutere delle incompatibilità in una seduta ordinaria del civico consesso non ha avuto mai seguito. Vediamo nel dettaglio il contenuto della delibera incriminata sull'affidamento degli incarichi ai tecnici nel servizio precedentemente mandato in onda dalla Prima TV.